Buongiorno a tutti e ben ritrovate l'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto aprirà il notiziario il nostro parroco Don Arturo con il suo editoriale. Farà seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e di pubblica utilità. Per la rubrica Un Santo al giorno questa settimana conosceremo la vita di San Valentino. La rubrica Orto e Giardino sempreverde oggi vi propone una pianta d'appartamento, l'anturium, e come realizzare il compostaggio usando scarti dell'orto e della cucina. Martedì 16 febbraio termina il periodo di carnevale e Luigi ha cercato per noi alcuni momenti dei carnevali più belli d'Italia. Buona visione! Cari amici, in settimana, mercoledì 17 febbraio, è il giorno delle ceneri, l'inizio della quaresima. Un percorso che diventa per tutti noi l'opportunità per una conversione, per un cambiamento, che Papa Francesco ci ha chiesto nella lettera enciclica Fratelli Tutti, la conversione di diventare capaci di amare maggiormente, di uscire da se stessi vincendo il proprio egoismo e di donare e donarsi. E tutto questo avendo come modello il dono che il Signore Gesù fa a noi della sua vita. Le proposte che all'interno della nostra comunità parrocchiale avremo modo di conoscere ci permetteranno di fare questa esperienza di uscita da noi stessi per viaggiare verso l'altro che vive vicino o lontano da noi. Questo incontro sarà anche l'occasione di esercitare l'arte della carità, che unita alla preghiera e al digiuno ci aiuterà a vivere pienamente l'esperienza del dono. Adesso tocca a ciascuno di noi, singolarmente, come famiglia, come gruppo, fare questa scelta di imparare ad esserci, esserci anche per gli altri, così come Gesù c'è stato per ciascuno di noi, insieme, insieme proprio perché la strada percorsa con gli altri, con gli amici, diventa una scoperta sempre invitante e sempre appagante il desiderio del dopo, di quel futuro a cui il Signore ci attende e ci chiama, camminando con noi e indicandoci la gioia dell'amore. E allora cerchiamo davvero di cogliere la profondità di questo messaggio. Lascio la parola adesso a Chiara, vice direttore dell'ufficio missioni della nostra diocesi, che ci presenta proprio il sussidio, lo strumento a nostra disposizione per poter fare nostro lo spirito della Quaresima. Di questo 2021. Buon percorso allora verso la Pasqua di Ressurrezione. Arrivederci. È con noi Chiara Gabrielli, vice direttore dell'ufficio per le missioni della nostra diocesi. Con lei parliamo della Quaresima, un Quaresima che nella nostra diocesi ha sempre un'impronta, una vocazione missionaria. Abbiamo prodotto un nuovo libretto che accompagnerà le nostre comunità in questo cammino di Quaresima, un libretto che è frutto anche della collaborazione di più uffici. Sì, quest'anno, come è stato fatto l'anno scorso, questo sussidio è davvero un lavoro di sinergia delle tre aree pastorali, quindi l'area per la mondialità, per la società e per la crescita della persona, insieme anche al seminario diocesano. E questo è un vero esempio di sinergia che addirittura le nostre parrocchie potrebbero adottare come stile pastorale da mettere in pratica. Un cammino quindi costruito dalle tre aree pastorali, un cammino che chiede anche un impegno perché all'interno raccontiamo alcuni progetti missionari che avranno bisogno del nostro sostegno. Sì, quest'anno sosterremo quattro progetti missionari che sono in alcune parti del mondo. Il primo è il puericultorio, cioè un orfanotrofio che c'è nelle periferie di Lima e che è sostenuto e aiutato dall'operazione Matto Grosso. Il secondo progetto è un convitto per i giovani studenti delle colline Amugutu, che è in provincia di Gitega, in Burundi. L'ospedale di Chiremba, ma in particolare il Centre de Sant'E, che sono questi centri di salute, è una sorta di ambulatori medici che ci sono sulle colline, nelle colline che ruotano intorno a Chiremba e che aiuterebbero a far sì che il malato che giunge all'ospedale può essere già curato in questi ambulatori prima di giungere magari gravi presso l'ospedale che appunto è storico perché è da più di 60 anni in gestione alla diocesi di Brescia insieme alla diocesi di Ingozi e l'ultimo progetto ha un titolo che è lo stesso della lettera pastorale del nostro Vescovo. Non potremo dimenticare perché in tutto il mondo tutti i nostri presbiteri Fideidonum e laici Fideidonum stanno vivendo questo momento che appunto è di coronavirus, di pandemia, tale che anche loro sono in grandi difficoltà nella gestione della loro parrocchia, dei fedeli e delle prime necessità a cui già loro fanno fronte quotidianamente perché in paesi del sud del mondo. Cercheremo di aiutarli anche noi attraverso appunto questo nostro quarto progetto. Fideidonum che sono appunto in difficoltà sappiamo anche il tema dei vaccini che nei paesi del sud del mondo di fatto non è ancora stato aperto. Abbiamo una quaresima missionaria con la tradizionale cassettina ma quest'anno è un percorso più interattivo. Sì è un percorso più interattivo, già parte con una novità perché il format è completamente rinnovato, non è più il classico libretto un po' più piccolino ma è tale quale a come è la nostra rivista Chiremba che è il magazine che viene inserito all'interno della Voce del Popolo. Tra l'altro lo avrete appena ricevuto nelle vostre case voi abbonati della Voce perché è inserito all'interno dell'ultima uscita di giovedì 11 febbraio in modo tale che possa arrivare in maniera più capillare anche nelle case dei Bresciani. All'interno ci saranno anche alcuni codici QR che saranno appunto attiveranno alcuni video ossia ogni lunedì ci sarà un accompagnamento attraverso un codice QR che porterà a fare a ogni bambino un lavoretto settimanale di costruzione o di lavoro. Già giovedì, il mercoledì successivo, il giovedì successivo al mercoledì delle ceneri ci sarà già da costruire la cassettina perché questa in realtà è solo ed esclusivamente per gli adulti ma i bambini potranno costruirsi da loro personalizzandola in modo tale che sia proprio più loro e si sentano davvero parte di un aiuto alle missioni che può essere appunto fatto durante il cammino quaresimale. Il mercoledì ci sarà un altro codice QR che rimanderà ad alcune fiabe del mondo sempre rivolte a bambini. Il venerdì è un video che sosterrà i nostri vari progetti che abbiamo appena descritto e la domenica ci sarà il commento al Vangelo che sarà affidato a Don Claudio Lafranchini che ci ha aiutato nell'elaborazione di questo sussidio che ci aiuterà meglio a commentare il Vangelo della domenica con un taglio anche dal titolo nostro che è voce del verbo essere che è il titolo del nostro sussidio. Sussidio quindi formato diverso, contenuti sempre importanti sui quali riflettere, riflettere anche in famiglia e un cammino da fare appunto insieme nelle nostre famiglie. Il sussidio l'avete ricevuto con la voce del popolo e le parrocchie hanno avuto anche l'opportunità di prenotarlo appunto presso l'ufficio per le missioni. Ringraziamo Chiara Gabrielli disse che è stata con noi. Calendario liturgico pastorale. Oggi domenica 14 febbraio in parrocchiale alle ore 18 e 30 Santa Messa. Defunti Giuseppe, Cecilia e Giuseppe. Lunedì 15 febbraio in oratorio alle ore 8 Santa Messa. Defunti Ignazio, Anselmo, Ton di Maria e Pierino. In oratorio alle ore 18 e 30 Santa Messa. Defunti Ferroldi, Paolino e Angela, Gervasio e Teresa e Boffelli Giovanni. Martedì 16 febbraio in oratorio alle ore 8 Santa Messa. Defunti Chiara Giuliani e Marini Anselmo. In oratorio alle ore 18 e 30 Santa Messa. Defunti Augusto e Teresa. In oratorio alle ore 20 Preghiera di Lode Santa Messa. Mercoledì 17 in parrocchiale alle ore 8 Santa Messa. Defunti Brignani Caterina e Vignoni Carlo. In parrocchiale alle ore 16 liturgia della parola. In parrocchiale alle ore 18 e 30 Santa Messa pro popolo. In parrocchiale alle ore 20 e 30 Santa Messa. Defunti Lorenzi, Renzo e Andrea. Giovedì 18 febbraio in oratorio alle ore 18 Santa Messa. Defunti Morbini Domenica, Paolo, Gianni, Piera, Tedeschi Renato e Marisa. Venerdì 19 febbraio in oratorio alle ore 8 Santa Messa. Defunti Piero e Nerina Doninelli. In oratorio alle 15 via Crucis. In oratorio alle ore 18 e 30 Santa Messa. Defunti Battista, Pierina, Aldo, Annibale e Lucia. In parrocchiale alle ore 20 e 30 via Crucis. Animata dalla contrada del Centro storico. Sabato 20 febbraio in parrocchiale alle ore 18 e 30 Santa Messa. Defunti Alfano Antonia, Gardoni Fausto, Manfredi, Nadia. Domenica 21 febbraio in parrocchiale alle ore 8 Santa Messa. Defunti Giovanni, Vittoria, Francesco e Giacomo. Alle ore 10 Santa Messa. Defunti Biloni Andrea, Franco, Giuseppe, Angela, Annunciata, Battista e Gimo. Alle ore 15 Santo Battesimo. In parrocchiale alle ore 18 e 30 Santa Messa. Defunto Don Gianfranco Lazzaroni. Educando. Corso per la comunità. educatori e giovani in oratorio. Lunedì 15 febbraio alle ore 20 e 30 con Don Raffaele Maiolini. Parola, celebrazione e carità. La tridimensionalità della Chiesa per poter essere e vivere la sua missione nel mondo. Lunedì 22 febbraio alle ore 20 e 30 con Don Raffaele Maiolini. Quando le Chiese dicono la Chiesa. Piccolo excursus artistico-teologico. mercoledì 17 febbraio Sacri Ceneri. Dalle ore 12 alle ore 14. Adorazione eucaristica. Digiuno e astinenza. La legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo il mattino e la sera. La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni. Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al sessantesimo anno iniziato e alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Rimani in oratorio. L'apertura del cortile dal cancellino laterale dal martedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 17, il sabato apertura del bar e del cortile dalle ore 14 alle ore 18 e la domenica apertura del bar e del cortile dalle ore 11 alle ore 12 e dalle 14 alle 18. E cerchiamo genitori o giovani che rimangano presenti nel cortile dell'oratorio nell'orario di apertura di sabato e di domenica. Si ricorda la raccolta mensile per il restauro della chiesa parrocchiale domenica 14 febbraio. Ci sarà poi un incontro con le suore figlie dell'oratorio in oratorio il giovedì 18 febbraio alle ore 20 e 15, un incontro dal titolo Via privilegiata per educare la vita buona del Vangelo. A carnevale stare a casa vale. Anche se non possiamo incontrarci in oratorio per festeggiare il carnevale ti invitiamo a partecipare alla sfilata in maschera. Manda una foto whatsapp con il tuo costume di carnevale ricordando di specificare il tuo nome a Don Nicola al numero 333 83 19 460 entro lunedì 15 febbraio 2021. Un attente e competente giuria premierà le maschere più originali. Con tutte le foto pervenute realizzeremo un video e lo pubblicheremo sui canali social della parrocchia. San Valentino un santo la cui festa è cara a molti ma chi era San Valentino quando è vissuto perché è ricordato in tutto il mondo anche come il patrono degli innamorati. Sicuramente nacque a Terni in Umbria visse al tempo dei primi cristiani delle persecuzioni. Vieni a casa mio vecchio ti curerò ti darò da mangiare tu sei mio fratello in Cristo e io ti voglio bene. Ma chi è questo Cristo? Ti parlerò anche di lui vieni. Mettiamo il nostro pane in comune ricchi e poveri ricordiamo la cena del Signore il giorno prima della sua morte. Egli benedisse il pane lo spezzò e disse a tutti di mangiare. Questo è il mio corpo. Mi avete eletto vostro vescovo e io ho il dovere di parlarvi tutti i giorni di Gesù. Noi dobbiamo fare quello che lui ci ha insegnato. Avanti la porta è sempre aperta. Valentino fuggi arrivano le guardie ad arrestarti. Che vengano non ho fatto nulla di male. È lo stesso imperatore che lo ha comandato gli hanno riferito che il popolo ama più te che l'imperatore. Non deve amare me. Deve amare Gesù soprattutto. Perché Valentino non vuoi essere nostro amico adorando gli dei del tuo popolo e non quel Cristo crocefisso a Gerusalemme 240 anni fa? Ah Claudio se tu conoscessi la grazia di Dio non diresti così ma disprezzeresti i tuoi idoli e adoreresti il Signore che è nei cieli. Mio fedele Ascenzio affida al giusto giudice Asterio il giudizio su Valentino che non mi sembra certo un ribelle un nemico forse è solo un po' strano. Il tuo nome Valentino viene da valere cioè star bene essere sani se il tuo Dio e tu restituirete la vista a questa mia figlia cieca da quando aveva due anni. Solo per la tua gloria Signore io non sono nulla. Nel nome di Cristo egli che tutto può i tuoi occhi vedano la luce anche il tuo spirito accolga la luce di Dio. Ora tu Valentino abusi della mia pazienza tu converti quelli che dovrebbero condannarti e non solo ma dicono anche che fai miracoli è vero? Non io ma è Cristo che ha ridonato la vista a quella fanciulla. Quest'uomo è pazzo si è immediatamente messo a morte. Tutta qui la vita eroica di San Valentino ma perché è allora il patrono degli innamorati? È una tradizione del nord forse inglese tanto che in tutto il mondo si parla di Valentino Day. Forse perché San Valentino pur essendo in inverno il 14 febbraio già introduce un po' di sole come un inizio del risveglio della natura. Difatti San Valentino è raffigurato con un sole in mano e gli americani in tempi recenti vi hanno costruito sopra una leggenda. Un giorno due fidanzati stavano litigando e si scambiavano parole non propriamente gentili. Di lì passava Valentino. Una rosa rossa per voi? Vi amate? Perché allora litigate? Io mi chiamo Valentino. Vi voglio bene. Desidero che vi vogliate bene anche voi. Un fiore di cera? L'anturium. Come la stella di Natale anche l'anturium è una pianta da interni che se messa in condizioni climatiche adatte può avere lunga vita. Il nome deriva dalla conformazione della pianta dal greco antro ossia fiore e ora cioè coda o spatice. Adatto per l'appartamento e per l'ufficio l'anturium è di facile manutenzione. Necessita infatti di poca acqua per mantenere il terriccio umido ma non bagnato. La famiglia degli anturium è molto ampia e oggi se ne contano novecento tra specie e varietà. Il primo tipo arrivò in Europa dalla Costa Rica attraverso il dottor Khan van Scherzer nel 1857 e dopo vent'anni circa arrivò dalla Colombia una nuova specie che assieme a questa fu studiata, modificata, manipolata al punto da ottenere tante altre specie. La gamma cromatica degli anturium comprende il bianco, le diverse tonalità di rosa, di arancione e di rosso con bellissime foglie anch'esse di vario colore e spessore. L'infiorescenza interna o spiga o spatice ha un colore che varia dal giallo chiaro al giallo arancione. La lucentezza è data dalla celosità della spada che altro non è che una brattea colorata. I veri fiori di questa pianta invece sono posti sulla spiga. L'anturium è molto utilizzato dai fioristi come fiore reciso e come importante elemento decorativo nelle composizioni di fiori freschi. Il compostaggio. La preparazione del compost è uno dei lavori di routine per chi possiede un orto o un giardino e desidera realizzare un tipo di coltivazione naturale. Il metodo è molto antico ma sempre valido. La chiave della fertilità del terreno è l'humus e non c'è altro modo per rimediare la diminuzione di humus nel suolo che prepararne di nuovo e ridistribuirlo sul terreno. Il compost può essere maturo o meno maturo e va inserito nel terreno tenendo conto della composizione dello stesso, argillosa calcarea, mescolandolo, quando serve, con stallattico stagionato o torba o cenere di legna. Ma come si procede per realizzare un buon compost? Innanzitutto è necessario predisporre di un luogo o dell'orto che sia facilmente accessibile tutto l'anno, dove appoggiare in un cassone senza fondo nel quale potranno essere inserite le sostanze destinate alla trasformazione. Tutto il processo di maturazione può durare anche oltre un anno. Si può intervallare ogni strato di materiale inserito un leggero strato di terra ogni 20 centimetri per far sì che il materiale immesso non crei cattivi odori e il processo di trasformazione avvenga nel modo corretto. Nel cassone possono essere inseriti foglie e parti vegetali, rametti triturati, scarti di cucina, quali bucce, torsoli di vegetali, fiori appassiti, erbacce e quanto viene raccolto dalla pulizia dell'aiuole, facendo attenzione che il cumulo non fermenti, ma si decomponga senza emanazione di cattivi odori. Solo a trasformazione completata il materiale ottenuto potrà entrare nell'aiuole per accogliere nuove sementi e nuove pianticelle. E con questo è tutto, vi auguro una buona domenica e una buona settimana e vi lascio la visione dei carnevali più belli d'Italia con immagini delle scorse edizioni. Grazie. Grazie.